Buongiorno ragazzi, oggi ci alleneremo insieme sulla linea del tempo. Partiamo con una domanda semplicissima. Quanti anni ci sono in un secolo? Bravissimi, cento anni! Osserviamo attentamente la linea del tempo. L'anno zero, indicato in verde, corrisponde alla nascita di Cristo. A destra vengono indicati gli anni dopo Cristo. A sinistra gli anni avanti Cristo. Per gli anni avanti Cristo occorre obbligatoriamente far seguire al numero l'abbreviazione AC. Per gli anni dopo Cristo questa abbreviazione può invece essere omessa. La linea del tempo è suddivisa in parti uguali. Ogni parte corrisponde ad un secolo. A destra i secoli dopo Cristo. A sinistra i secoli avanti Cristo. Dall'anno 1 all'anno 100 abbiamo il primo secolo dopo Cristo. Dall'anno 101 al 200 il secondo secolo dopo Cristo. Dal 201 al 300 il terzo secolo dopo Cristo. E così via. Se osserviamo invece la parte sinistra della linea del tempo, vediamo che il conteggio degli anni avviene a ritroso. Il primo secolo avanti Cristo comprende gli anni che vanno dal 100 all'1 avanti Cristo. Il secondo secolo avanti Cristo gli anni dal 200 al 101 avanti Cristo. Il terzo secolo avanti Cristo gli anni dal 300 al 201 avanti Cristo. E così via. Proviamo ad esercitarci insieme. Osserviamo attentamente questi esempi. La consegna dell'esercizio ci chiede di indicare gli anni compresi nel secolo indicato. I secolo dall'anno 1 all'anno 100. II secolo dall'anno 101 all'anno 200. Terzo secolo dall'anno 201 all'anno 300. E ora prova tu. Prendi un foglio e annota la risposta. Quali sono gli anni compresi nel quarto secolo? Hai risposto? Confronta la tua risposta dal 301 al 400. Benissimo! E nel quindicesimo secolo? Quali anni sono compresi? Ottimo! dal 1401 al 1500. Stai diventando un campione. Esercitiamoci anche con la datazione prima di Cristo. Osserviamo ancora insieme l'esempio. Il primo secolo avanti Cristo comprende gli anni dal 100 all'1 avanti Cristo. Il secondo secolo avanti Cristo gli anni dal 200 al 101 avanti Cristo. E il terzo secolo avanti Cristo gli anni dal 300 al 201 avanti Cristo. Prova tu ora. E il quarto secolo avanti Cristo? Quali anni comprende? Hai risposto? Benissimo! Dal 400 al 301 avanti Cristo. E il quindicesimo secolo avanti Cristo. Quali anni comprende? Ora ti sei sicuramente velocizzato. Dal 1500 al 1401 avanti Cristo. Benissimo! Impariamo un trucchetto che ci aiuta a collocare l'anno dentro un secolo. Come possiamo evitare gli errori nel collocare correttamente l'anno all'interno del secolo? Una volta offerta una data occorre individuare le centinaia. Alle centinaia occorre aggiungere un'unità. Settecentosettantotto Sette le centinaia Più uno, otto Ottavo secolo Millecinquecentoquarantasei Quindici Più uno, sedici Sedicesimo secolo Duemila e venti Venti Più uno, ventuno Ventunesimo secolo Per indicare secoli si possono utilizzare modi diversi. Finora abbiamo visto l'uso dei numeri romani, che sono numeri ordinali. Ma possiamo utilizzare anche i numeri arabi, ma obbligatoriamente dobbiamo farli precedere dall'apostrofo. Oppure le lettere, obbligatoriamente scritte in maiuscolo, per distinguerle dai semplici numeri. Il duecento, il trecento, il quattrocento Bene, osserviamo questo esempio E poi prova tu Anno seiscentoventuno Qual è il secolo di riferimento? Il settimo secolo Anno mille trecentoquarantacinque Appuntati sul quaderno il secolo di riferimento Controlla ora la tua risposta Siamo nel quattordicesimo secolo Anno duemila undici Hai risposto correttamente? Siamo nel ventunesimo secolo Lavoriamo ora con la datazione prima di Cristo Osserva l'esempio Anno seiscentoventi avanti Cristo Corrisponde al settimo secolo avanti Cristo E l'anno centosessantasette avanti Cristo A quale secolo corrisponde? Corretto Secondo secolo avanti Cristo E l'ottocentonovantasette avanti Cristo? Certamente il nono secolo avanti Cristo Prova adesso ad osservare L'esempio per questo esercizio Primo secolo avanti Cristo Quali anni comprende? Dall'anno cento All'anno uno avanti Cristo Su questo modello Prova a rispondere Alle seguenti domande Il quinto secolo Che anni comprende? Dal quattrocento uno Al cinquecento E il quindicesimo secolo? Certo Comprende gli anni Dal millequattrocento uno Al mille cinquecento Sei diventato un campione Meriti una bellissima medaglia Bravissimi Siete studenti modello Vi aspetto alla prossima lezione Ciao ragazzi Ciao attiv ends up Buongiorno Al Wi-Fi